Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati nel mio canale, io sono Malta e oggi siamo qui con un nuovo video nuovamente su Fallout 76 dove oggi vi andrò a far vedere dove trovare la tuta spaziale che è uno dei vestiti rari presenti all'interno del gioco, trovabile in un solo posto Ma, prima di iniziare, via con la sigla Allora, la prima cosa che dovete fare è quella di dirigervi alla stazione spaziale abbandonata che si trova a nord della mappa, più precisamente in quella zona colorata di chiaro Lì troverete proprio questa navicella che con l'impatto si è distrutta in molte sottunità Voi dovete cercare quella che presenta un tastierino con una porta inaccessibile E dovrete cercare in quell'area il codice Ma io vi facilito il compito dicendovi che il codice è 11, 14, 18, che è la data di uscita del gioco praticamente Una volta entrati in questa struttura, vi troverete davanti un ardente Fatelo fuori, comunque è molto facile da uccidere E negli armadietti posti alla vostra destra potete trovare due tute spaziali dotate di casco Comunque una volta indossata potete vedere che è molto carina e vale la pena di essere presa Anche perché comunque non ci vuole uno sforzo allucinante per prenderla E detto questo si conclude qua la guida perché è molto breve Però volevo farla perché molto interessava questo vestito Quindi ho voluto farvi vedere come trovarla Il video si conclude qui, come ho detto prima Breve, ma spero vi serva Vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale, condividere i video con i vostri amici Attivate anche la campanellina Vi ricordo che in descrizione potete trovare il link per la mia pagina Instagram e la mia pagina Facebook E noi ci rivediamo in un prossimo video Bella ragazzi